Io spero che, diciamo, siano finiti gli alberghi che chiudono. Purtroppo, effettivamente, come diceva Ricci, ne abbiamo perso qualcuno, forse anche più di qualcuno. Spero che questi alberghi marginali siano rimasti gli ultimi a chiudere e quindi tutti quelli che sono rimasti vengano messi in condizione di operare. Operare nel migliore dei modi significa, mi riallaccio a quello che diceva pure Paolo Berazzoli, una possibilmente veloce approvazione del piano degli alberghi, perché vengano liberate risorse affinché si possano migliorare, ingrandire, ma io non dico ingrandire nemmeno come posti letto. L'importante adesso è negli alberghi avere anche i servizi, quindi ampliare per avere dei servizi nuovi e migliori da offrire alla clientela. Questo io penso che possa comunque riguardare anche il discorso che diceva Ricci, c'è una maggiore occupazione dell'indotto che poi si crea a San Benedetto e poi anche perché una città turistica, quindi una città pulita, una città organizzata, non è solo per i turisti, è bella pure per i cittadini che ci vivono. Quindi se la città di San Benedetto è bella, non è bella solo per i turisti, è bella per tutti, pure per quelli che ci stanno. La San Benedetto è bella comunque, ha purtroppo dei ritardi, dei ritardi che bisognerà sanarli al più presto, altrimenti come per tutte le cose perderemo quell'effetto che ha avuto il nostro bellissimo lungomare, quello delle ville Liberty, quello del Buozzi, il viale Buozzi, il viale Trieste, il Marconi anche, in parte, insomma viali che hanno fatto la storia di San Benedetto. Oggi se andiamo lungo il marciapieto est di questo viale, uno pensa di essere nel posto più sfigato del mondo con il rischio delle storiche balaustre, noi ci siamo riempiti la bocca delle storiche balaustre che stanno cadendo. Io rinnovo l'invito all'assessore Mozzone, al sindaco, ma rifatela questa passeggiatina, andate a vedere. Io non so se poi se c'è questo incidente che potrà essere anche grave, chi ti dovrà poi pagare, perché lì siamo su un lungomare, sono balaustre cadenti, io rinnovo la richiesta di toglierle prima dell'estate. Faremmo una bella figura, se ci mettiamo due fioritoiere al posto di quelle balaustre in attesa di rifarle, noi faremmo una bellissima figura, secondo me. Eviteremmo di... Insomma, anche il marciapiede, io non so, vedete il marciapiede ovest, insomma, è veramente indecente e pericoloso. Basta andarci e guardare in che stato si trova quel tratto di lungomare. Io spero che questo, a fine, prima delle prossime votazioni, non sia una promessa elettorale per il prossimo mandato di Gaspari, sia già finito prima, in modo che possa essere il biglietto da visita del prossimo sindaco di San Metto, insomma, quello di far vedere terminato quel lungomare. Sul fatto del piano di spiaggia, io aggiungerei che effettivamente San Metto potrebbe essere un centro di attrazione turistica, visto che oramai, con le strade, con la viabilità sempre più importante, più snella, Roma a due passi, il territorio intorno, insomma, ecco, noi potremmo essere un'attrazione anche d'inverno. Purtroppo abbiamo quattro chilometri con investimenti di svariati miliardi improduttivi. Stanno lì fermi. Ma sai quanta gente, quanti giovani vorrebbero provarci a entrare nel mondo del commercio, delle attività, essere piccoli imprenditori, migliaia, milioni, chiunque chiedi avrebbe questa voglia di fare, di andare, di costruirsi un'opportunità di lavoro. E qui non lo impediamo. Prima, perché magari qualche metro cubo dà fastidio a quello che passa sulla strada, non vede il mare con la bicicletta, non so quanto lui lascia alla città passando in mare con la bicicletta sulla strada, mentre gli altri stanno lì a lavorare a sputare sangue. Voglio dire, dopo le valutazioni politiche, io a volte ascolto e leggo anche su San Benedetto oggi dei commenti che mi mi fa pensare è meglio che cambio città, insomma, qui non è più non è più possibile viverci, perché veramente la nostra operosità, il nostro lavoro, il lavoro dei nostri padri vanificato da certi commenti da giornali che veramente reticolati, pericolo, vandalismi, io anzi, a proposito dei vandalismi, io vorrei ringraziare pubblicamente e vorrei conoscerli quei due puliziotti che sono intervenuti, anche se erano fuori servizio e al rischio di prenderci qualche coltellata, anzi, qualcuno l'ha anche preso uno dei due, quindi io vorrei tanto che la stampa comunicasse questo mio piacere di conoscerli e di ringraziarli per quello che hanno fatto, anche se non era loro dovuto quell'intervento, lo hanno fatto e questo è lo spirito che ancora salvaguarda la nostra città, che la politica si adegui agli imprenditori capaci.